c'è tutti non sono sparita ma finalmente ho in mano il progetto che avevo in mente da un bel po io sono lori e questo è il mio canale di cucina gridi web dopo mesi di lavoro impaginazione foto eccetera eccolo finalmente pubblicato il libro di cucina tratto dal sito e dal canale si tratta di un libro di 500 pagine con più di 343 ricette insieme a trucchi segreti un libro di cucina con tutte le ricette che ci sono sul canale e alcune sono inedite nel libro trovate tutte ricette scritto passo passo in modo dettagliato con orari e metodo sul lato ho fatto in modo da distinguere vari settori in colori per facilità di consulto e trovare subito l'argomento che interessa ad esempio l'arancione è dedicato ai dolci tutti descritti in modo da essere facilmente replicabili con trucchi come trucchi per la frolla perfetta o quelle per preparare il pan di spagna perfetto con indicate le dosi per teglia e per altezza il viola è dedicato alle ricette del mondo come ad esempio le ricette asiatiche gli involtini primavera le melanzane brasate ravioli cinesi con tutte le istruzioni sia di preparazione che metodi di cottura il blu è dedicato a come si fa e trucchi col per esempio come sostituire il burro o come tagliare il pan di spagna una sezione utile ad esempio è quella dedicata alle spezie e odore in cucina un elenco di cinque pagine con foto e di come abbinarla ai piatti utile è anche la tabella di conversione delle misure in cap in grammi per facilitare una trasposizione nelle ricette inglesi ho anche indicato ad esempio dove occorre il metodo di cottura utilizzato tutte le foto sono a colori e potete verificarle sul sito e canale sono tutte vere niente libro scritto con intelligenza artificiale o foto false come tanti libri di cucina che girano adesso ma un vero libro di cucina verificabile e per questo sicuro che ogni ricetta rispecchia la riuscita dall'impasto ai lievitati come ad esempio le brioche col tupo il pane siciliano tutte scritte passo passo tutte ricette provate e provate da amici parenti e utenti del sito e canale facile da sfogliare e consultare lo trovate su amazon sia in formato cartaceo che versione kindle dove potete leggere anche l'estratto del libro spero che questo libro sia gradito e continuate a seguirmi perché presto ci sarà un'altra sorpresa per chi mi segue a presto ciao a tutti